Uaah! Uaah! Devo andare, dove ci sono tanti massi da lanciare? Ma anche io ce l'avevo dei bisogni da fare? Ma dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Qua? Ma cosa c'è? Devo tirare giù dei massi Dovano i massi? Che cos'è io? Ciavo a partere Ciaccio Poi io fallo con la... Di albori, no? Vabbè, io vado... Faccio un grosso Faccio le splash qua Villa Guarda C'è C'è niente da... Uuuh! Chi è? Ma... Oddio, io so per cadere C'è niente da? Chiarò che si è niente da... Fai... Voi orsi... Esotica... No... Esotica... 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 ...Ehi... Esotica... ...Esotica... Non mi serve Non mi serve Non posso trovare ma sei da buttare giù Crispio Non mi serve Là ce n'è uno Spacca gli alberi, Elia, fai prima No, proprio spacca gli alberi, non me li da Ma questi sono quelli giù No, devi trovare l'albero giusto Tipo questi, vedi Che dico però, sai niente, non è pazzesco No, mi dicevi, ma no si però Eh no ma... E' quello l'ho trovato, quello solo lancio giù Ecco, vedi Vediamo se me li dà E' sempre le solite robe Se mai un bel pompa potente Di olio d'orno Queste? Vado qui se cacci, vado, eh Sto vedendo un po' Ma quant'è me sto rompendo, wow Oh Un fenomeno Un fenomeno 93 su 5% No Quanta roba c'è qua adesso Mi domini, scusi però, eh Facci il caso Ma se trovano qualcosa, dovessi no Mh, che però non è possibile, raga, eh Ok, questa Questa E... Guarda, va che c'era? Non c'è niente, non c'è Dove? Noo C'era qualcuno qua, no? Manca, che diz' Non c'è anima viva, eh Ah non è Non c'è nessuno 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 lì non c'è nessuno lì non c'è nessuno non so dove va il volante sinceramente no ma c'è nessuno non c'è nessuno li trovi sicura uffa di massi uffa 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 uff uff uffa io le ho da sempre questo qua madonna santa però il merro blu è come fa quell'altro eh non ne faccio niente di quel poca l'area blu ormai non lo piglio più ma non c'è nessuno eh io andrei a pinnarti non c'è veramente nessuno eh il cassa di ore è della seconda che trovo e mi do sempre sto bomba eh vabbè vabbè si guarda pazzesca vuoi questa bomba? vuoi questa di bomba? vabbè eh no mi sono sempre trovati in altri ultimi due quindi non dipende dai 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 bello vabbè 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 Ah madò, madò che uccisione, raga! Eh beh, è massacrando Cido? No Eh no! No, non è finita eh, non c'è ancora qualcuno Ma dove uccidere? Ma dove? Ora mi sparano... Ora arrivano da dove? Eccolo! Ma dov'è? No, dai si vabbè, si vabbè No! Dove cazzo è? Guarda come scappa! Pezzo di merda Eh no! Raffanculo Dio ma cazzo! Oh cazzo! E' presa... Si, presa la scada Eccolo! No, ti fa bene! Arriva, arriva eh! Eh vabbè, un altro non ce la faccio uscire, eccitelo però Un altro cazzo E' rimasto un'ottima è rimasto Grazie Tecna E grazie LIA Anch'io ho contribuito eh, anche Alan Eeeh, si vabbè Addio A Dio C'è il corona qua eh Cosa qua sai cosa sono? Rune vera? Il? guarda mia tesola ciliega guardami quel giochino violo che fine ho fatto la preso lui la preso lui la preso leandro sicuramente no no te lo sto portando no io preso il giochino d'oro non so se lo sai che abbiamo ucciso se cecchino dire se vuoi uccisi tre non so se lo sai sai di no 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 non questo non questo quell'altro avevo si ma di odmr lo cecchino c'era eh non lo so che c'è cpmr lo so già oh guarda cosa ho trovato in questa cassa un po non è cambiato lui dai fatti buona ehm 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 c'è un lamo qua davanti oh c'è questo 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 lo amacciamo no andiamo andiamo devo ho bisogno poco massacrato che che ho trovato il mio che c'è chi beh a me non serve l'ilt questo qualcuno se lo prende sennò lo prendo io ma ma è più che c'è che c'è che c'è non mi serve altra non 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 che c'è che c'è grande grande tecnoglND c'è un scudo qua eh oh là ci sono i potevi se quello che voglio andare a prendere aspetta sta a posto oh oh c'è una cosa qua che devo fare ecco lì dov'è? minchia lontanissima eh però l'ho visto sta andando al benzinaio sta andando là sta andando là oh forza io Dio chi vedi il drago c'è gente c'è gente quella a me raga come lo stai a dire? sto andando alla serif dove dove ma dove dire? eh c'è la tecnica che gli sta sparando mi sto sparando vabbè mi sto sparando vada c'è uno qua 29 29 addio ecco l'ho una la mado cecchino te l'ho tirato mordiretto poi ria vieni qua fermando su e grazie ciao dottore come stai? eh no eh no eeeh me ne dico tutto scor madoo che bella skin tecna nooo che skin hai? bravo scemo che mi raccoglio oggi che mi raccoglio oggi che mi raccoglio oggi che mi raccoglio oggi ma che sono un cazzo madoo bravo c'è problema ragazzi c'è no c'è no addio ma mi c'era bisogno c'è gente quella a me ma mi c'era come mi c'era è male ah no ma mi tengo questo eh adesso fai i coppi eh no ma c'è quello d'oro che cazzo perché quello viola no c'è munizioni raga se volete il modello di munizioni coa ragazzi eh dai ma vuoi un dmr viola no c'è n'è già viola c'è già oro che c'è il doro sister no io sei dentro qua dentro lei io te l'ho in cima te lo dico ciao ciao ma chi hai sparato? vieni no oh spariti corri se si ma perchè salite che dopo tanto adesso vi 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 butta la safe dall'altra parte oh chi è che spara cosi? qua c'è qualcuno qua dove che è? c'è gente qua non mi spiega in modo di cazzo di botto sta uccidendo non ucciso ancora nessuno ma ti rendi conto neanche uno non ne ha ucciso vabbè mazzalia stanno di là eh perchè forse ho visto uno dov'è? eh sparono di là che non ci arrivi qua e niente di che faccio da tappi wow ricambiati la schiena si vai ma dove siete voi? vai foto ma sta qua bellissima raga è mio stile ma loro dove sono? che brutta siamo dentro noi qua e niente eh eccolo vedo vabbè? è anche lontanissimo eh ma sta là però è entrato dentro a me non carica a te carica da noi, io non vedo ho c'è che non cadere eh ho bisogno di tornarti che non c'ho voglia mi stanno sparando ma non so dove non sai perchè lo sprechi che se ci colpiscono stanno qua dietro non c'è la cosa davanti non li vediamo per più ahahahahahahha non vedo un cazzo anche in più c'è tre cappelli in una tre cappelli in una sono rimasti solo quelli non è detto sono in due sono in due, sono dentro qua adesso escono le ando devono uscire ma noi che non siamo dentro però eccolo qua guarda tecna come se non si può uscire da male merda ma che bello è strambottino e ora? ma cosa fa? fa anche indietro qua ma li becca io avevo fatto 53 mi raccari però se lo becco io lo becchi tu come è possibile? eh perchè sono farà una ahhh ci vedi almeno dov'è il suo compagno? sono ucciso ma sono botte gli ultimi è pazzesco è stato andato a tirare via scendi eccolo eccolo via scappa nooo che spie qua ci spuglia che cazza di mi resti che cazza di mi resti che cazza di me